Ciao, io sono Matteo, ho 16 anni. Dal corso che ho frequentato mi è piaciuto veramente tanto la possibilità di poter usare delle strutture come la realtà virtuale o comunque anche gli esercizi che ci sono stati proposti. Credo e spero che ci abbiano anche aiutato proprio in un buon risultato. Oltre all'inglese ho stretto nuove amicizie, non è stato proprio un problema anche ambientarsi nel gruppo. Diciamo che oltre ad aver migliorato il mio livello di inglese abbiamo fatto una presentazione con un lavoro di gruppo quindi diciamo che anche quello mi ha aiutato tanto anche al potermi esprimere di più davanti a un pubblico. Assolutamente sì, credo che sapere l'inglese al giorno d'oggi sia una delle cose più importanti e proprio perché questa lingua è in grado di aprirti orizzonti e molte anche opportunità in lavori anche all'estero. Assolutamente sì, infatti sia l'anno scorso che quest'anno proprio tra un paio di settimane devo partire per andare in Inghilterra e diciamo non vedo l'ora per questa cosa, sono molto felice e spero di poter usare l'inglese al meglio cercherò anche di parlare proprio con delle persone. Sarà una vacanza studio dove diciamo nelle mattine stueremo delle lezioni d'inglese mentre nel pomeriggio avremo la possibilità comunque di fare delle gite nella città dove starò e potremo andare a fare shopping o queste cose qua. Credo che fare un corso d'inglese sia molto importante e molto utile e soprattutto per il vostro futuro e perché non bisogna soffermarsi sul sapere e conoscere solo la propria lingua del proprio paese ma conoscere anche molte più lingue. Infatti possono dare una mano nel futuro per nuove opportunità di lavoro, per conoscere nuove persone, fare nuove amicizie quindi e costruire anche nuovi rapporti. Never stop learning! Ciao! 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 Ciao!